Sui giornali leggiamo che altri partiti dentro o fuori questa sala pongono condizioni, pongono veti. E con la Lega no, e con Salvini no, e con i sovranisti no. Noi non abbiamo posto condizioni né su persone, né su idee, né su movimenti. È un momento in cui il bene del Paese deve superare l'interesse personale o partitico. Noi siamo a disposizione, l'abbiamo detto al Professor Draghi, la Lega è la prima forza politica del Paese. Sono 131 deputati, sono 63 senatori, sono governatori in tutta Italia, sono migliaia di sindaci. È una forza che dove governa lo fa con ottimi risultati. A differenza di altri non riteniamo che in questo momento si possa andare avanti solo a colpi di no. E questo Matteo Salvini, però sentiamo anche Zingaretti. Sentiamo chi ha detto. Salvini ha dato ragione al Partito Democratico, non ci siamo spostati noi. Finalmente tutti possono riconoscere che le nostre battaglie europeiste contro il sovranismo, il nazionalismo, l'idea di superare i problemi distruggendo l'Europa era un'idea fallimentare. E quindi non c'è dubbio che si apre una fase nuova che ora e poi richiederà coerenze, ma ne parleremo. L'Europa non è una parola, sono valori, è un'istituzione, sono delle missioni, è dignità, sono... e quindi vedremo le coerenze. Con Marika Dell'Acqua. Intanto sui social Beppe Grillo torna a farsi sentire e a rimarcare una battaglia storica personale e anche del movimento, quello di un reddito di base e spiega infatti che il good dollar è una moneta che consente di ricevere un reddito di base direttamente sul proprio cellulare. Non fa nessun riferimento politico a questo preciso momento, ecco, non c'è nessun riferimento al momento politico in cui ci troviamo in questo momento. Va bene. Borgonzoni, che dice? Questo governo nascerà con la... La Liga si è trovata... ma io quello che voglio cercare di spiegare, la Liga si è trovata davanti a un bivio in cui poteva decidere la coerenza, come è stato detto in studio, la coerenza davanti a tutto per tutto. Abbiamo detto mai governeremo con XY, per cui non ci importa niente magari dei lavoratori e di provare a pesare in quei provvedimenti dei giovani di cui abbiamo parlato, perché noi come tutto il centro-destra abbiamo presentato migliaia di emendamenti che sono finiti nel niente, se non per pochi casi, durante i decreti che abbiamo visto nell'ultimo anno, oppure dire è più importante questa coerenza di facciate magari ci portava anche dei voti, rimanere fuori e dire assolutamente no mai, non andiamo tra virgoletta a sporcarci le mani, non andiamo in un governo dove magari un nostro elettore mai avrebbe immaginato di vederci, oppure cosa facciamo, cercamo di fare bene per quei giovani, per le imprese, proviamo a pesare in quei provvedimenti, proviamo a cercare di indirizzare quelli che saranno debito futuro, per cui sono debito proprio sulle nuove generazioni, abbiamo scelto magari la strada più difficile, io prima sentivo in studio parlare poltrone, divisioni, ministeri, la Lega ma penso anche molti altri partiti, movimenti che si sono seduti al tavolo a discutere con Draghi, non sta parlando di questo, penso che sia molto più un esercizio magari nelle trasmissioni e sui giornali, poi è facile come percorso? No, non è un percorso facile, però davanti alla scelta noi abbiamo preferito al bene della Lega il bene che è quello del Paese, abbiamo deciso, magari non pagherà, io non so se pagherà questa cosa dal punto di vista elettorale, però sicuramente quando uno fa politica dovrebbe avere come primo intento e primo faro da seguire quello di fare il bene dei cittadini o quello che pensa sia il bene dei cittadini, per cui questo per noi era fondamentale. Si dice così, però è implicitamente un'accusa rivolta a Fratelli d'Italia che invece penserebbe per il principio contrario a un discorso elettorale. Guardi, io non credo che ci possiamo dividere. Arriviamo ogni ora, ha ragione. Allora, io non mi voglio dividere né voglio pensare alla Lega, alle sue scelte, avrà fatto giustamente le sue riflessioni, noi pensavamo che un bene era anche quello di non dividere il centrodestra, tant'è che Giorgia Meloni aveva detto che era disponibile se tutto il centrodestra si fosse astenuto, anche lei ad astenersi, poi invece abbiamo capito che insomma ognuno va per la sua strada, ma io sono convinta che la Lega ci dovrà ringraziare come Forza Italia, perché noi saremo l'unica opposizione di questo governo dove peraltro saremo la sentinella del centrodestra, dove peraltro noi non è che non tifiamo per l'Italia, noi voteremo tutto ciò che servirà ai nostri imprenditori, ai nostri commercianti, ai nostri operai, alle nostre famiglie, tutto voteremo, come abbiamo sempre fatto. Però io dico all'amica Lucia questo, dico ognuno prende le proprie responsabilità, è un modo di affrontare le proprie responsabilità, noi non crediamo che possiamo stare in un governo dove probabilmente ci starà Speranza come ministro, Di Maio come ministro, Conte nessuno gliel'ha chiesto, ma vedo che oggi dice io non parteciperò, ma non so chi gliel'ha chiesto, tenderei ad escludere che Draghi ha chiesto a Conte di partecipare al governo. Detto questo, noi siamo assolutamente, cioè ti fiamo per l'Italia, abbiamo detto che Draghi è una grandissima personalità, ma poi siccome siamo una Repubblica parlamentare i voti se le dovrà trovare, voglio vedere la Lega quando Draghi gli smonterà quota 100 se ciò avvenisse, come si comporta, che ne ha fatto sempre una bandiera. Allora sull'immigrazione ci saranno quelli che hanno smontato i decreti sicurezza. La Borgonzoni è fiduciosa, perché dovrebbe fare quota 100? Io voglio dire, io tifo noi, tifiamo da l'Italia. Beh, perché c'è il migliore, migliore, migliore. Migliore, migliore, fatemi sentire il migliore. A parte che quota 100 veniva difesa anche dal Movimento 5 Stelle all'interno del governo giallorosso e quindi del resto, voglio dire, è una misura fatta al tempo in cui la Lega aveva già rotto con il centrodestra governando con i 5 Stelle, quindi io sarei meno legato ad aspetti di carattere propagandistico, lo dico sinceramente. In questo momento noi dobbiamo dare delle risposte molto concrete. Il motivo per il quale l'Italia viva ha aperto anche una discussione che poi è culminata in una crisi, anche in uno strappo doloroso, era che noi eravamo molto preoccupati di quello che sarebbe accaduto nei prossimi mesi. Quando Mattarella ha detto non si può votare, non era solamente, e già sarebbe un argomento molto importante per l'accrescimento di una possibile pandemia ancora più forte dal punto di vista dei contagi, come è avvenuto peraltro in Portogallo, dove tutti sanno che dopo le urne c'è stato un picco della contagiosità. Ma soprattutto perché, e questo poi è il dato fondamentale anche del rapporto con l'Europa, perché noi entro aprile dobbiamo presentare il piano del Next Generation EU italiano. Cioè dobbiamo realmente, e a me piace molto questo nome perché parla di future generazioni, investire su quelli che saranno i principi fondamentali della crescita in questo Paese per evitare che ci siano dei soldi sprecati. Perché non sono solo soldi, sono impegni che noi dobbiamo ai nostri figli, ai nostri nipoti, alle future generazioni e quindi non ci possiamo permettere il lusso di sbagliare. Questo è il motivo per il quale Italia Viva ha aperto una discussione che poi è culminata nella crisi. Siccome oggi tutti dicono che la presenza di Draghi fa fare un salto di qualità anche alla politica, penso che si dovrebbe anche riconoscere che le questioni che avevamo posto avevano un fondamento importante ed è per questo motivo che noi riteniamo che più che i veti servano le idee in questo momento e ciascuno deve portare ovviamente la propria e ciascuno dovrà far lavorare molto di più anche i propri parlamentari, perché io mi immagino un governo che sarà molto attivo sulle questioni che riguardano lo sviluppo del Paese, ma poi ci sarà ovviamente molto da fare anche per l'iniziativa parlamentare per sostanziare questa unità nazionale. Anche perché, è chiarissimo e migliore, anche perché direttore De Bortoli, alla fine di questo governo dei tecnici, il governo Draghi, magari qualcuno potrebbe venire in mente che in effetti i tecnici servono più dei politici se alla fine, nel momento del bisogno, affidiamo a loro il compito di traghettare il Paese fuori dalle crisi. Non so se questo è populismo oppure è un pensiero che a qualcuno è venuto in mente. Un governo tecnico è sempre una sconfitta della politica e quello che è successo in questi giorni è una sconfitta totale dei partiti che sono stati presi metaforicamente a schiaffi dal Presidente della Repubblica, posti di fronte anche alle loro responsabilità, l'incapacità di trovare una sintesi all'interno del centro-sinistra secondo me pregiudica le possibilità future per il centro-sinistra di essere competitivo alle prossime elezioni. È ovvio che oggi i partiti dovrebbero sentirsi meno legittimati a chiedere, ma più costretti a rendersi disponibili, quindi a fare un passo indietro rispetto alle loro scelte identitarie che possono essere quota 100, che possono essere quelle relative alle vicende fiscali, anche se penso che tutto sommato nel pensiero di Draghi ci sia una diminuzione delle tasse sul lavoro come passaggio assolutamente ineludibile. Anche perché le tasse nel nostro Paese... Lo chiedono gli imprenditori da sempre, dal primo giorno di pandemia, dicono non date inutili e piccole sovvenzioni, toglieteci le tasse che sono tecniche che noi non riusciamo a pagare. Però nel nostro Paese circa l'80% del leggetto fiscale lo pagano i dipendenti e i pensionati, e questo dobbiamo dirlo, quindi c'è un problema di riequilibrio, di evasione fiscale. È chiaro che i partiti si troveranno di fronte ad alcuni bocconi amari e l'abilità, lo auguro, sarà quella... È già cambiato però l'atteggiamento, dall'andiamo a sentire cosa è da dire Draghi, a in realtà Draghi che chiama i politici e dice... E qui insomma, un governo tecnico sta in piedi nella misura in cui i bocconi amari sono equamente distribuiti tra i partiti che lo sostengono. Ognuno ha il suo sorcio da gestire. Però c'è il tema quello dei vaccini, perché Draghi avrà una grande... Cioè che noi attendiamo di vedere Draghi cosa farà sul piano vaccinale, perché quello... Cioè se gli italiani saranno vaccinati, voi capite che oltre a un problema di salute i vaccini rappresentano la competitività futura, perché i primi che non usciranno fuori saranno molto più competitivi. Salvini oggi propone il metodo Bertolaso che va leggermente contro il metodo Arcuri, eh? Giustamente, migliore, giustamente sottolineava che vi va definito non come un governo tecnico questo, ma come un governo di unità nazionale, di emergenza, di solidarietà nazionale, come quelli che ci furono nell'immediato dopo guerra, insomma. Sarà tecnico, politico. Cioè, auguriamoci che ci siano delle persone di grande qualità. Questo proprio. Di grande qualità. Di grande profilo. Questo è assolutamente mi spessante. Silvia, velocemente, volevi chiedere qualcosa? Sì, è un po' di speranza, dato che poi tutti quanti... Sono super felice che tutti quanti stiate mettendo al centro dei vostri discorsi le nuove generazioni. Poi nei programmi politici di qualsiasi partito diventano un capitoletto nascosto. Ora, dato che almeno siete in tre partiti qui, vi trovate d'accordo sul tema di rilanciare le nuove generazioni? Ma non potete sedervi all'insediamento del governo Draghi in Parlamento e riformare l'accesso al mondo del lavoro. Un giusto riforma del welfare per permettere a tutti di fare famiglia. Che sono sicura che è una cosa che condividete da destra a sinistra. Per ridurre il divario saraliale. Sono queste le vere cose che servono all'Italia, che servono alle nuove generazioni. E non ditemi che è un tema impopolare. È un tema che dovrebbe metterci d'accordo tutti. Sicuramente da condividere. Notizia di oggi, ma in realtà non è di oggi. Il 30% delle famiglie italiane non può garantire l'accesso alla Dada dei propri figli. Questa è l'altra grande sconfitta. Il 30% oggi, cioè a un anno dall'inizio della pandemia. Questo a proposito di giovani è un'altra cosa che fa riflettere. Prima di salutare i nostri ospiti, direi che 40 secondi di De Luca glieli dobbiamo. Anche perché il Presidente della Campania ha questo aspetto un po' burbero. A volte dice delle cose in maniera molto seria che fanno un po'. Però devo dire che su Conte e sul patto del tavolino ha detto una cosa... Vabbè, sentitela. Abbiamo visto cose che noi umani neanche avremmo immaginato di vedere. E l'ultima di queste meraviglie l'abbiamo vista quando è stato portato davanti a Palazzo Chigi, a Piazza Colonna, un tavolino, spoglio. Mi sembrava anche con la vernice un po' scrostata. Si è immaginato che volessero far vedere che almeno un banco buono c'era in Italia. Poi con il passare dei minuti si è pensato che volessero fare un'altra cosa. Accendere un barbecue, fare una bella grigliata, la Piazza Colonna. Ma Crozza chi è con fronte a De Luca? Riconosciamogli la genialità però di questa comunicazione politica che non ha precedenti in Italia. Assolutamente sì. Direttore De Bordo. Assolutamente sì, ogni volta ci stupisce insomma. Però non sappiamo più chi faccia la parodia. Ma no, l'ha superata, ha superato la parodia, ha superato alla grande la parodia. Non ce ne voglia il Governatore De Luca che anzi aspettiamo ospite. Grazie a tutti i nostri ospiti in studio e in collegamento. Abbiamo un'ampia purtroppo pagina di cronaca che parte con il delitto di Bolzano.